Nego e respingo il contenuto dell'articolo pubblicato dal New York Times. Sono profondamente scioccata e colpita leggendo notizie che sono assolutamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett. Asia Argento nega seccamente in una nota le accuse di molessie sessuali rivoltele dall'attore per le quali avrebbe versato 380 mila dollari per raggiungere un accordo per non far proseguire la vicenda nei tribunali. Argento parla apertamente di una persecuzione. Non ho altra scelta che oppormi a tutte le falsità e proteggermi in ogni modo, aggiunge. Jimmy Bennett, che aveva recitato 8 anni nel ruolo del figlio di Asia Argento nel film da lei diretto Ingannevole il cuore più di ogni cosa, sostiene di aver subito molestie nel 2013 quando aveva 17 anni e l'attrice, 37, aveva inizialmente chiesto un risarcimento di 3,5 milioni di dollari. Oggi il baby attore di successo, che ha recitato anche nell'asilo dei papà accanto a Eddie Murphy, ha 22 anni e da qualche anno tenta di fare il musicista rock a Los Angeles. Il suo avvocato ha scritto che negli anni successivi al presunto incidente Bennett era talmente traumatizzato che le sue prestazioni lavorative, il suo reddito e la sua salute mentale sono diminuiti. Nel frattempo una portavoce del Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles ha detto che verranno fatte delle indagini, anche se per il momento non c'è nessun fascicolo aperto. Grazie a tutti.